Buongiorno amici e benvenuti ai test di studio 137. Stamattina facciamo una comparazione fra due microfoni dinamici, super cardioidi. Il primo è quello che state ascoltando, che è il famosissimo Beta 58 della Shure, un classicissimo usato dappertutto su tutti i palchi. E l'altro invece che fra l'altro mi ha prestato per fare questo test un bravissimo cantante amico che si chiama Jenny Vitale e che io ringrazio, ed è l'SE V7, quindi SE Electronics e il microfono è il B7 che come il Beta 58 è un super cardioide dinamico. Andiamo ad aprire la scatola, vediamo come è fatto il microfono. Allora, ovviamente istruzioni, risposte in frequenza, eccetera, eccetera. Ah, questa è carina, c'è un altro antipop, un'altra spugnetta che possiamo cambiare. Vi ricambio, nera, la clip, la borsettina con la chiusura lampo standard classica e ovviamente il nostro microfono, eccolo qua. Come vedete, se ci fate caso, l'antipop sotto è rosso, per cui ne hanno messo un altro nero, quindi potete, a parte che se si consuma lo potete, ce n'avete uno di riserva, ma, se non vi piace il rosso, lo potete mettere nero. Allora, andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, lo Shure Beta 58 è un microfono, abbiamo detto, super cardioide dinamico con una risposta in frequenza di 50-16.000 Hz, impedenza a 290 ohm e pesa a 278 grammi. L'SE Electronics V7 è un microfono super cardioide, quindi uguale, stesso angolo di ripresa. Sempre un dinamico. Ha una risposta in frequenza sulla carta un po' più estesa, e questo è interessante da valutare, quindi è 40-19.000 Hz, quindi scende un po' di più e sale parecchio di più. 300 ohm, quindi siamo lì, e il peso è un pochettino più pesante, pesa 305 grammi, però, vabbè, più o meno, siamo lì. Ora, la grossa differenza che dobbiamo andare a valutare e vedere, appunto, se vale la pena e interessante acquistare questo microfono è il prezzo, perché mentre il Beta 58 costa 159 euro, l'SE costa 99 euro, quindi c'è un grandissimo risparmio, per cui andiamo subito a sentire e vediamo come suona questo microfono. Allora, se ci fate caso, c'è una leggera predominanza nel Beta. Il Beta è un pochettino più nasale, mentre invece l'S scende un pochettino più, ha un po' più colore sulle basse. Mettiamoci anche un po' di riverbero e sentiamo. Summertime Allora, niente, mi sembrano due bei microfoni. Vabbè, il Beta ovviamente lo conoscevamo già, lo conosciamo molto bene. L'S si difende veramente molto bene. La sensazione è che, appunto, un poco poco meno sui medi, un pochettino qualche cosa in più sulle basse. Sulle alte più o meno mi sembrano abbastanza simili, anche se sulla carta l'S sale un po' di più. Forse sarebbe anche carino provarlo con una voce femminile e vedere. Comunque, mi sembra un ottimo microfono. Fra l'altro, appunto, per il prezzo che costa, può essere un'ottima alternativa al Beta. Grazie a tutti e buona giornata.